Eccoci, siamo sulla forcella Pranagione, ci stiamo avvicinando alla cima, purtroppo la visibilità è molto scarsa, spero che si riesca a vedere Alberto, sta cercando di superare un punto di grado 1, senza nessun aiuto da parte di cavi metallici o quant'altro, si intravede anche Filippo, sta non solendo, veramente una situazione estrema. Eccolo, sta arrivando, il fiatone si fa sentire a questa attitudine, dopo oltre 4 ore di camminata, Filippo sta arrivando, con il suo solito passo, Alberto pericolosamente non lo si vede, ricordo che lì c'è un crestone che scende di 1300 metri, Alberto dai segno, dacci un segno, li vediamo. Abbiamo già incrociato alcune persone che purtroppo ci hanno dato brutte notizie, poiché abbiamo sbagliato percorso, seguendo il sentiero Cai 366 invece del 387, che ci avrebbe portato a cima cadina, non sappiamo ancora quanto manca la vetta, speriamo poco, dato che le forze mancano e il cibo scarseggia. La temperatura al suolo è un grado, un grado e mezzo. Sono arrivati. Pipo, saluta!